Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. Ancora vittime sulle strade abruzzesi, un uomo di 40 anni, Marco Paolini, residente a Castelvecchio in provincia dell'Aquila, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina lungo la strada stradale 5 Tiburtina Valeria, al chilometro 187 nel territorio di Tocco da Casauri, in provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo mentre percorreva la Tiburtina per cause in corso ancora di accertamento ha perso il controllo della sua moto, una Triunfo 800, cadendo a terra e riportando lesioni gravissime che hanno determinato il decesso immediato del quarantenne, nonostante i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118 arrivati poco dopo. E ora ci spostiamo a Pescara, una denuncia questa mattina nel quartiere di Rancitelli, a farla il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che mostra alle telecamere lo stato di abbandono e la pericolosità di un quartiere vittima della criminalità. Allarme Rancitelli, il Movimento 5 Stelle oggi denuncia, davanti a telecamere stampa, la situazione di degrado e incuranza nella quale vivono le famiglie. Oltre all'allarme sicurezza dovuto dalla delinquenza presente nel quartiere, l'appello è a tutte le istituzioni che in tanti anni non hanno mai risposto alla richiesta di aiuto dei suoi residenti. Qui c'è un proprietario delle case popolari, che è la regione Abruzzo, c'è un presidente della regione, hanno chiesto con forza e chiediamo con forza la sua presenza perché servono soldi per ristrutturare case che stanno letteralmente cadendo, pericolanti, che mettono a serio rischio anche l'incolumità pubblica. Non solo, siamo un quartiere difficilissimo dove lo spazio di droga è quotidiano, ci vogliono presidi fissi ma anche mobili di polizia, un controllo del territorio e poi i servizi. Manca un assistente sociale, mancano servizi di accoglienza e quant'altro. Non bastano interventi sporadici per magari ristrutturare un parco. Prima di ristrutturare un parco devono ristrutturare le case dei cittadini che stanno crollando. Signora, lei da quanti anni vive qui? Eh, 40 anni. Quali sono i disagi che avete lamentato? I disagi? Le scelzioni sempre rotte, i portoni sempre rotte, le scale rotte, nessuno che fa le pulizie per le scale, nessuno vuole mettere una lira per pulire. Non so, ma c'è. La situazione è di persone che sono anche in lago gli anni, si parla anche di paura? Sì, si parla di paura perché qui c'è un alto tasso di criminalità. Piccoli spacciatori, quindi... E noi abbiamo paura, cioè lo si fa in casa, nei portoni. Le porte non si chiudono, dicevate? No, le porte... Ci è stato rimesso poca ansia, neanche un mese fa. Già è rotto. Già è rotto perché devono entrare... I citofoni non funzionano. Da un anno e più la posta non ci arriva, o arriva in ritardo, viene rubata. Il sindaco di Scontrone in provincia dell'Aquila, Ileana Schipani, ha disposto allo sgombero di tre strutture gestite da una cooperativa in cui sono ospitate alcune decine di migranti richiedenti protezione internazionale. Nei locali, nel corso di una ispezione condotta dai carabinieri del Nasti Pescara insieme ai militari della stazione di Alfedena e della compagnia di Castel di Sangro e al personale dell'Asl, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e sovraffollamento. All'esito degli accertamenti, il primo cittadino con apposito provvedimento ha ordinato lo sgombero delle tre strutture entro tre giorni. Il divieto di accesso e utilizzo dei locali fino alla bonifica e al ripristino delle condizioni idonee. L'ordinanza impone infine di provvedere all'immediata sistemazione degli ospiti. E ora ci spostiamo a Francavilla al mare, dove il primo cittadino uscente, Antonio Luciani, alla presenza del governatore della regione Abruzzo, D'Alfonso, ha annunciato l'avvio dei lavori per il completamento del tanto atteso porto turistico. Quando sono diventato sindaco, era stato posto sotto sequestro. Oggi posso dare una notizia tanto attesa. Il porto turistico di Francavilla verrà completato. Antonio Luciani in una conferenza stampa affollatissima dall'annuncio dell'avvio dell'opera. Ovviamente ci sarà bisogno di un cronoprogramma di lavori che penso si stimi intorno all'anno solare. Quindi l'obiettivo sarà avere l'approdo pronto per l'estate 2017. Lo dico con grande soddisfazione perché era uno di quei problemi, ora lo posso confessare, che pensavo di non riuscire a risolvere. Invece grazie al governatore Luciano D'Alfonso e grazie a una grande attività svolta dai tecnici, dagli uffici, da tutti, siamo riusciti anche a risolvere questo problema. Cosa è mancato fino ad oggi per poter proseguire e concludere i lavori? Intanto il finanziamento che è arrivato dalla regione per 2 milioni e mezzo di euro, direi che è la cosa principale e dopo soprattutto anche una sistemazione di una pratica amministrativa che ahimè era partita nel peggiore dei modi e quindi è servito fare molto, compreso riottenere la valutazione di impatto ambientale che la stessa regione ci ha rilasciato con l'apposito comitato pochi mesi fa, un paio di mesi fa. E' il governatore d'Abruzzo a dire che Francavilla dimostra di essere il comune d'Abruzzo più diligente, merito di un sindaco che ha fatto dell'avvocatura la sua filosofia di gestione. Ma quest'opera è un'opera che ha seguito una procedura da comune eccellente, è stato il primo comune a concludere gli obblighi giuridicamente vincolanti. Un'altra opera importante sarà quella del pontile, ha parlato anche di quella? Sì, io mi faccio carico di trovare le risorse per rigenerare il pontile che è un'opera che deve parlare e deve introdurre al parco più grande d'Abruzzo che è il mare adriatico. Tutte le associazioni ambientaliste parteciperanno a Compatte il 12 marzo alla manifestazione in programma a Pescara per chiedere mare e fiume puliti. Associazioni ambientaliste unite e compatte per partecipare il 12 marzo a questa importante manifestazione. Sì, il 12 marzo facciamo un appello a tutti i cittadini di Pescara ma anche di tutta la regione Abruzzo che hanno dovuto assistere in ermi alla contaminazione delle acque che non è un problema di questo periodo ma che è dovuto a 20 anni di incuria delle amministrazioni nei confronti della tutela dei fiumi e del mare. Ricordiamo che da dati dell'anno scorso a livello europeo il 2% delle acque sono inquinate mentre la regione Abruzzo presenta un dato allarmante che è quello del 20% del totale delle acque che presentano una qualità scarsa. Siamo in attesa a marzo delle nuove analisi che probabilmente se non confermeranno questo dato probabilmente sarà un dato peggiorativo proprio dovuto al fatto che quest'estate c'è stato quel grave sversamento di liquami nel fiume e quindi nel mare e che ci sono stati tantissimi casi di patologie come l'impetigine che hanno afflitto i cittadini pescaresi. Il comune di Montesilvano annuncia la risoluzione di contratto con la società di gestione rifiuti Tradeco fino a nuova assegnazione però la stessa si occuperà di garantire i servizi alla città. Risoluzione del contratto da parte del comune di Montesilvano nei confronti della Tradeco società incaricata della raccolta dei rifiuti e dei servizi di pulitura. Dopo una lunga serie di lamentele da parte dell'amministrazione e proteste da parte dei lavoratori il rapporto è stato chiuso in via definitiva ma avvisa il sindaco la società dovrà continuare a provvedere alla pulizia della città fino a nuova assegnazione. Fino a quando non individueremo il nuovo gestore. Purtroppo questa decisione che è una decisione oggettivamente estrema si rende necessaria perché questa amministrazione ma sostanzialmente tutti i cittadini non sono e non erano contenti di un servizio che veniva erogato in maniera non continuativa e non all'altezza degli standard che questa città si aspettava. Abbiamo tentato in ogni modo di pungolare la società al rispetto delle disposizioni contrattuali. Quando la Tradeco è entrata nella gestione del servizio qui a Montesilvano grossi miglioramenti non ce ne sono stati. Quindi necessariamente per tutelare gli interessi dell'amministrazione ma anche di tutti quanti i cittadini abbiamo risolto il contratto con la Tradeco. Adesso per trovare una nuova società come procederete? Abbiamo diverse opportunità. Creare una società in house che svolga il servizio direttamente sotto il controllo e l'impulso dell'amministrazione sia quello di prendere in considerazione la possibilità di allargare il servizio in house già attivo in città a noi vicine ma anche quello probabilmente di fare un nuovo bando che abbia come obiettivo quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata. Ricordiamo a Montesilvano sono fermi ad un umiliante 22% perché solamente andando a incrementare la raccolta differenziata si possono abbattere i costi. Presentato ieri mattina presso la Camera di Commercio di Pescara il Master di Secondo Livello in Diritto ed Economia del Mare. Vettore torna a questo Master di Secondo Livello in Diritto e Economia del Mare una grossa opportunità per il territorio e anche per gli studenti ovviamente. Un Master di Qualità fatto in collaborazione tra diverse istituzioni, le università, la Camera di Commercio ed è un'offerta che si unisce all'offerta formativa della nostra università e di quella di Teramo e credo che sia un segnale importante di collaborazione con il territorio, con le istituzioni e quello che vogliamo fare come università non soltanto fare attività formativa con i corsi di laurea normale che offriamo a tutti gli studenti ma collaborare con le altre istituzioni per un'attività formativa di terzo livello. Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo? Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo, per l'Italia e per Pescara e quindi è giusto che ci sia un Master di questo tipo che fornisce gli elementi importanti per chi è più giovane, per gli studenti, per comprendere appunto l'importanza del mare nell'economia della nostra nazione ma direi anche del nostro territorio. Tra l'altro parliamo di un Master unico in Italia. Sì, è un Master unico in Italia esattamente ma è unico anche per come è stato concepito per le professionalità che sono state reclutate e che vengono reclutate per offrire questa attività formativa di grande qualità. Il 6 marzo Campli ospiterà il primo raduno Fango e Neve con oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Domenica 6 marzo appuntamento per tutti gli appassionati del quad con il primo raduno Fango e Neve Città di Campli organizzato dall'associazione sportiva Gli Affossati. L'associazione è stata costituita formalmente nel 2015. Il raduno vedrà anche la partecipazione di equipaggi che verranno da tutte le regioni limitrofe e per questo approfitteremo per promuovere le nostre bellezze presenti sia a Campli che esternamente. Uno degli intenti principali dell'associazione è quello di promuovere anche l'utilizzo del quad. All'evento, patrocinato dal Comune di Campli e dalla Federazione Motociclisti Italiani, sezione di Teramo, parteciperanno ben oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Il percorso sarà misto tra difficoltà trial, fango, acqua, proveremo un po' tutto. Si dividerà in varie zone, una parte alta, la parte iniziale, dopo la partenza dal centro storico di Campli, poi si scenderà più a valle dove cominciamo a trovare fango, acqua e troveremo subito dopo un ristoro. Si concluderà facendo di nuovo guadi e salite abbastanza difficoltose, dunque solo per trazione 4x4, dove appunto la bravura e la maestria del pilota farà la differenza. Questi atleti che praticano quad ed enduro molte volte, oltre a svolgere attività sportiva, svolgono attività per il sociale, tant'è vero che vengono spesso coinvolti in attività di protezione civile. Infatti il 4 febbraio 2016 la Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di istituire proprio un dipartimento di protezione civile che collaborerà in stretto contatto con il Ministero degli Interni proprio per tutti questi praticanti attività di quad e di enduro che conoscono benissimo il territorio e vengono spesso chiamate nell'emergenza proprio per rintracciare o persone perse nelle varie escursioni o come purtroppo accadde all'Aquila. Ricordo che all'Aquila i primi ad intervenire furono nella notte stessa gli enduristi ed i quadisti. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva. È stato un pomeriggio intenso con le partite di Serie B che hanno completato la ventottesima giornata. Non ci saranno ulteriori posticipi perché si tornerà in campo già da lunedì con Cagliari Novara e poi con le altre gare della ventinovesima giornata martedì sera. Queste le partite di oggi. Quota 49 punti con il pareggio di oggi ma viene avvicinato dal Cesena 46, anche dalla Virtus Entelle e dallo Spezia che a quota 43 riescono ad agganciare il Novara. Poi Brescia 42, Bari 41, Avellino 40, Trapani 37, Ternera 36, Perugia 34, Latina 33, Modena e Ascoli 32, Livorno 31, Vicenza 30, Provercelli e Virtus Aranciano 29 punti, Saerintana 26, Como 21 punti. All'Atletico Cornacchia è stato un derby tiratissimo, specie nel secondo tempo. Pescara bruttissimo fino all'ora di gioco. Poi nell'ultima mezz'ora c'è stata la rimonta, un finale con tanta rabbia ma la vittoria è sfuggita. Non sono mancate anche le polemiche, due espulsioni nell'Ascoli e un giocatore del Fabbro che è finito in ospedale il servizio. Gara incredibile e incredibilmente nervosa all'Adriatico fra Pescara e Ascoli dopo 97 minuti che hanno regalato emozioni a Raffica, oltre a 7 ammoniti e 2 espulsi. Il Pescara rallenta ancora la marcia e vede allontanarsi il Crotone, avvicinarsi alle spalle il Cesena. Non è stato il Pescara di Cagliari ma dopo un primo tempo da censura nella ripresa ci sono state anche le occasioni per vincere la partita. Sugli spalti dell'Adriatico poco meno di 9.000 spettatori e settore ospiti, desolatamente vuoto per decisione dell'osservatorio. In campo i biancazzurri si presentano con ghiotte novità nell'undici iniziale e con coda dal primo minuto in difesa, così come Pasquato sulla tre quarti. Tribuna per Cocco e Panchina per Rolando Mandragora. Nell'Ascoli 11 più o meno annunciato con Petagna, unica punta di ruolo e Cacia in Panchina. Si parte con un brivido in area biancazzurra al quarto quando su angolo di Ancto Milanovic salta di testa indisturbato colpendo però centralmente fra le braccia di Fiorillo. Ma la difesa biancazzurra in bambola nei primi minuti e così al decimo dopo un rinvio erratto di Fiorillo e una dormita della difesa, la palla termina a Ancto che mette la palla in rete per l'1-0 a Scolano. Oddo in bestialito in panchina manda a scaldarsi Fornasiera e Mandragora mentre al dodicesimo c'è un tiro di Caprari da posizione defilata con Ile Pallone che termina a lato. Ile Pescara soffre il pressing del centrocampo marchigiano e fatica a fare breccia nella metà campo a Scolana. Alla mezz'ora c'è un lampo di Gianluca Caprari che fa tutto bene mancando con una sassata dai 25 metri di pochissimo il bersaglio grosso. I biancazzurri cercano di fare la partita ma alla manovra adriatica manca la consueta fluidità con i minuti che trascorrono e con Oddo che perde sempre più la pazienza prima dell'intervallo che arriva dopo una buona opportunità per i biancazzurri con un salvataggio quasi sulla linea di Mitrea su punizione di Caprari. Nella ripresa si ricomincia con Mitriza al posto di un'imbarazzante coda e con un 3-3-4 che fa rischiare grosso al Pescara con Iancoto che fallisce ancora il 2-0 davanti a Fiorilli che salva questa volta con i piedi. Oddo capisce che i rischi sarebbero troppi e manda in campo Fornasiera al posto di un impalpabile Pasquato. L'atteggiamento del Delfino sembra più propositivo anche se Lascoli non sta certo a guardare. Al dodicesimo Verre in area anziché tirare tenta il cross e fallisce una buona opportunità con al tredicesimo ancora un'occasionissima per Almici che chiama al miracolo il portiere del Pescara Fiorillo. La gara resta aperta con le due squadre che si allungano. Al quattordicesimo si infortuna Caprari e al suo posto entra Pierluigi Cappelluzzo. Al diciassettesimo però arriva l'ennesima perla di Lapadula che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa fulmina l'anni per l'1-1 realizzando il pari e la diciassettesima rete stagionale. Il Pescara ci crede mentre i marchigiani perdono certezze e così Cappelluzzo fa 2-1 prima delle golle di Giorgi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo pareggia di nuovo la contesa. Ma le emozioni non sono finite perché al ventisesimo Milanovic colpisce a gioco fermo Lapadula e finisce anzitempo sotto la doccia. In superiorità numerica i padroni di casa sono chiamati a profondere il massimo sforzo trovando con un colpo di testa di Cappelluzzo. Al trentatresimo il miracolo di Lanni che salva anche due minuti dopo su conclusione di Torrera. Ile Pescara preme con decisione con Lascoli che stringe i denti davanti all'anni. Si salva anche al quarantesimo con Cappelluzzo che spreca questa volta a due metri dall'estremo ospite così come accade al quarantacinquesimo con Benalì che manca una facile occasione. Al novantunesimo viene espulso anche Giorgi per un duro fallo su Torrera. Berre al novantatresimo sbaglia il 3 a 2 con la traversa poi di Zampano al novantaquattresimo prima della rissa finale fra i giocatori delle due squadre. Ma in casa bianca azzurra non c'è tempo di rimuginare perché martedì sera sarà ancora campionato con il Trapani di Cerse Cosmi ospite allo stadio Adriatico. Come detto un giocatore dell'Ascoli, peraltro un ex, il difensore del Fabro, non è ripartito con il resto della squadra ma è ripartito con un'altra macchina ed è andato a farsi medicare, è stato portato in ospedale a farsi medicare per via di una ferita lacero contusa riportata proprio nell'immediato dopo partita all'altezza del naso. E ora parliamo di Virtus Lanciano che ha colto un successo fondamentale per continuare ad alimentare il sogno della salvezza. Un gran gol, quello di Ferrari nella ripresa, ha consegnato i tre punti alla squadra di Maragliulo che ha collezionato la terza vittoria in quattro panchine. La Virtus che, come abbiamo visto dalla classifica, torna in zona play-out agganciandola Provercelli. Una vittoria tanto bella quanto difficile la vigilia, eppure il Lanciano, nove punti nell'ultimo passagare sotto il segno di prima Maragliulo, regalto Speranzi, punto, perso da tutto, entusiasmo ai rossoneri. 1-0 decide Nicola Ferrari e non importa se è il migliore in campo per i frentani. Sarà al novantesimo, Alessio Cragno modifica il modulo di gioco il tecnico rossonero che deve rinunciare a Vitale e propone Rocca Bacinovic in mediana con Mari Lungo a dare manforte al duo Vastola di Francesco e all'occorrenza a supportare Ferrari, unico punto di riferimento in avanti. Il Bari dei tanti ex arriva a Lanciano per fare punti e per non perdere distanze dalle zone importanti della classifica a fischiare Albiondi e Riccardo Ross di Pordenone. Avvio convinto della squadra di Andrea Camplone, nono minuto acuto dalla distanza dei Biancorossi, conclusione dell'ex Sansone, in due tempi para in presa bassa Cragno, dodicesimo Puskas, palla al piede, prova ad accentrarsi ma lo stoppa a menta in piena area di rigore. Nemmeno 20 minuti e Maragliulo è costretto ad effettuare il primo avvicendamento out salviato dentro Rigione. Ventesimo fallo di Vastola su Defendi e relativa punizione da una ventina di metri, affidata a Sansone che calcia direttamente in porta, Cragno alza sopra la traversa dagli sviluppi del corner, il Bari è sempre pericoloso, ventitresimo si rivede il lanciano di Matteo sull'auto di sinistro, mette una palla insidiosa in area di rigore che però viene deviata in corner dagli sviluppi del tiro della bandierina e Gaetano Vastola a pochi passi da Micai, probabilmente a tentare la cosa più difficile, non riuscire a sorprendere la retroguardia del Bari. 31esimo Bacinovic ferma a Sansone al limite dell'area di rigore giallo per lo sloveno e ancora una punizione insidiosa per i galletti pugliesi, la calcia De Luca ma Cragno fa sua la sfera senza grossi patemi. 32esimo Sassata di Valiani dalla distanza e la sfera si infrange sulla parte alta della trasversale, altro brivido dunque per il lanciano, 35esimo corner di Bacinovic, colpo di testa di Aquilanti da ottima posizione ma la palla è alta, 38esimo altro pericolo per la Virtus Lanciano Puskas, colpo sicuro spara in porta ma Cragno è provvidenziale a preservare l'inviolabilità dei pali. Ripresa dagli sviluppi di un corner è subito pericoloso il lanciano al nono minuto con Ferrari che però cincischia al momento della conclusione, 17esimo e Nicola Ferrari si fa perdonare e inventa la cosa più difficile, un gol bellissimo con un pallonetto beffardo per Micai, 1-0 per i frentani, il Bari non ci sta e insiste nell'immediata ricerca del pari, soprattutto sulla corsia di destra, la squadra di Camplone prova a costruire le occasioni più pericolose, insiste il Bari, 24esimo, bello scambio per i biancorossi e tiro di piatto di Dezzi con la conclusione alta sopra la trasversale, 38esimo, botta di Boateng da fuori aria, palla alta, poi Lanciano a presidio del risultato e Bari senza nemmeno troppa lucidità alla ricerca del pari, 1-0 e martedì a Como per un altro scontro salvezza che potrebbe voler dire molto sui prossimi passi in campionato del Lanciano. E ora scendiamo in Lega Pro, parliamo del Teramo che domani ospiterà la maceratesa alle 17.30 al Bonolis, mancheranno l'infortunato Petrella e gli squalificati Scipioni e Cruciani, ascoltiamo il tecnico Vivarini. E' una squadra che come caratteristiche ci può creare dei problemi perché è una squadra che riparte con grande velocità, a livello di gioco fa poco, nel senso in fase di costruzione e sviluppo riesce a fare poco, però sono subito molto molto cattivi e veloci nelle ripartenze, quindi ci porteranno a giocare tantissimo la palla a noi e quindi abbiamo il rischio di queste ripartenze, però io penso che se diamo attenzione alle cose che dobbiamo fare in campo e ci mettiamo quella grinda, quella voglia che tutti quanti vogliamo far apparire, penso che abbiamo buone possibilità di fare il risultato. La squadra deve dare una risposta soprattutto al pubblico di Teramo perché ci teniamo tantissimo e veramente stiamo lavando tanto sotto questo aspetto qui per gratificare la tifoseria di Teramo, quindi l'obiettivo maggiore, ma chiaramente anche per il Presidente, per tutti, perché comunque sia le vittorie riescono a far stare tutti più tranquilli e più sereni. Quest'anno abbiamo dovuto lavorare molto sotto l'aspetto mentale e abbiamo dovuto curare molto tanti aspetti. Io lo sapevo, l'avevo messo in preventivo all'inizio di quest'anno, sarebbe stato un anno di grande lavoro per me e lo sto facendo con grande impegno e con grande voglia. Sono sicuro che a fine anno saremmo ricambiati del lavoro che abbiamo fatto. Nel pomeriggio l'Aquila ha impattato 0-0 al fattori contro il Tutto Cuoio. Per il servizio vi rimandiamo all'edizione del TG6 L'Aquila delle 19.45. Si è giocato anche un anticipo in serie di Albonolis. È finita 5-1 per il San Nicolò sul Giulianova. Giulianova e nel finale di gara il direttore tecnico Gelsi si è dimesso, direttore tecnico del Giulianova. Tutto sin troppo semplice per il San Nicolò. La gara contro il Giulianova, l'anticipo, serve per riprendere la marcia nelle zone nobili di classifica. Il campionato dei giallorossi invece assomiglia molto alle montagne russe. Bene e con grinta in casa, fragile, troppo fragile, quando questa squadra si allontana dal suo terreno di gioco mostrando limiti evidenti. Gelsi conferma l'11 almeno in avvio che ha battuto la re canatese Alfadini la scorsa settimana. Modulo speculare, quello sull'altro fronte di Massimo Epifani con Bucchi riferimento avanzato e Terrenzio Bri, coppia centrale di difesa, vista l'indisponibilità di rapino squalificato. Prima metà frazione senza sussulti, poi però il San Nicolò trova al primo vero a fondo la via della rete. Al ventunesimo Bucchi recupera un pallone rubandolo a proietti e a un difensore giallorosso e deposita col sinistro in fondo alla rete. Proteste dalla formazione giallorossa per un presunto tocco con il braccio dell'ex Campobasso e Terra. Scarsa la reazione ospite, così dopo una conclusione debole centrale di Merlonghi è proprio il numero 11 a servire Moretti, un pallone verticale che sembra irraggiungibile ma l'uscita di Proietti completamente errata. Spiana la strada al tocco dell'attaccante di casa che con la punta del piede deposita in fondo al sacco nonostante il salvataggio di un difensore ospite. Strada ancora più in discesa alla mezz'ora, quando il corner ancora di Merlonghi trova sul primo palo sempre Moretti che gira le spalle di Proietti il gol del 3-0. San Nicolò che va vicino al poker in chiusura di frazione quando il traversone di Massetti da destra trova dalla parte opposta la testa di Merlonghi che c'entra solo all'esterno della rete. La ripresa ha poco da dire, se non fosse per il San Nicolò che arrotonda ulteriormente il punteggio con Moretti di nuovo, per lui tripletta sul servizio del solito Merlonghi e al 64esimo con Bucchi che gira di testa un pallone comodo comodo servito da Massetti. Il gol della bandiera lo realizza il neoentrato Mastrilli al minuto 77 sul servizio verticale di Giampaolo. Per il resto, cambi compresi, è solo una lunga attesa fine al triplice fischio finale che condanna il Giulianova a rimanere comunque all'ultimo posto in graduatoria. Ma in casa giallorossa e nottefonda, la tifoseria delusa da una prestazione sconcertante chiede il ritorno di Francesco Giorgini e le dimissioni in massa per l'attuale entourage che arrivano a fine gara perché si dimettono Gelsi e Pisano e domenica arriva la capolista San Menedettese. Se pensano che sia io il problema, io mi metto da parte. Poi deciderà quello che è, le decisioni se le prenderà il presidente. Quindi le mie dimissioni le dico oggi, adesso, in questo momento qua. Poi deciderà il presidente se accettarlo o no. Ma io da oggi non so più la natura del Giulianova. Prenderò un po' di tempo, un po' di riflessioni e prenderemo la decisione giusta. Il nome di Francesco Giorgini, che è stato chiamato dalla curva del Giulianova, è un'ipotesi oppure no? Assolutamente no. Finisce qui questa seconda edizione del TG6. Vi ricordo l'appuntamento alle ore 20 con lato B di Jacopo Forcella per rivivere il pomeriggio della cadetteria. Il TG6 torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.